Una replica del mitico caccia inglese Spitfire della Royal Air Force che combatté l'epica battaglia d'Inghilterra sopra i cieli di Londra nell'estate del 40 contro i temuti caccia tedeschi si sta costruendo negli storici hangar dell'aeroporto fanese, tutt'altro che abbandonati e privi di vita. A dircelo è il presidente dell'aeroclub Pesaro che qui ha la sua base operativa vivo e vegeto più che mai. 11 irriducibili amanti del volo non abbandonano quello che un tempo era lo spazio di uno degli aeroporti militari più importanti d'Italia con scuola ufficiali e sotto ufficiali e con i bombardieri basati in quest'area. Lo spunto per vedere cosa c'è e cosa avviene sotto quei capannoni che paiono lasciati loro stessi e che pochi fanesi sanno invece ancora vivi e attivi ci viene dall'ennesima effrazione in quella che un tempo fu la sede della presidenza dell'aeroclub Pesaro nella palazzina del custode poi occupata da Grizzly dove per l'ennesima volta estranei hanno fatto vandalismio e scempio di ciò che c'è al suo interno ancora di proprietà del club. Il nuovo danno che c'è stato, la nuova effrazione che è stata, non è che può più interessare me come presidente ma è una questione che dovrà investire il comune e quindi le autorità loro. Comunque dentro ci sono beni vostri, quindi i danneggiamenti sono di vostra struttura? Sì, i beni sono ancora tutti nostri perché la situazione è sospeso da quando accade la prima volta, dentro c'è ancora tutto il nostro materiale, gli archivi e quant'altro. Il club è vivo e vegeto e si sostiene con l'autofinanziamento dei soci, ora ridotti al lumicino, dato che molti hanno angarato i propri veicoli altrove non potendo accedere alla pista dai loro hangar. Sono strutture storiche, è una cosa che vengono gli ingegneri, gli studenti di ingegneria di Milano addirittura a vedere perché parliamo di un hangar che si chiama Franchi, quale progettista che lo realizzò, sono hangar militari che hanno la capacità e le caratteristiche di poter essere smontati e spostati in base alle necessità dell'esercito aeronautica di allora. Sono hangar funzionanti, certo a noi piacerebbe, riprendendo noi forze anche numericamente come soci, riuscire a portarli in una condizione anche estetica superiore di qualità, ma comunque sono funzionanti ed occupati a tutt'oggi da aeroplani funzionanti, da un club che esiste, dentro questi hangar si fa attività, però portiamo avanti questa realtà con aeroplani che ribadisco sono funzionanti, fermi perché purtroppo abbiamo subito attraverso un'ordinanza da Enac la chiusura del cancello e quindi ci è stato reso impossibile sfruttare la nostra area e anche per altri fini che sono quelli del volo e anche della formazione al volo sull'aeroporto di Fano. Quindi stiamo attendendo una risposta del giudice del Tar di Ancona perché abbiamo fatto un ricorso al Tar di Ancona per ottenere la riapertura del nostro cancello e quindi l'accesso alle piste per il continuamento dell'attività di volo.